carissimi amici siamo all'appuntamento mensile con l'attesissima tabella in questo caso per il mese di maggio del 2015 io non ho parole per quello che è successo nel mese di aprile è veramente un qualcosa di incredibile vincite verificabili da tutti voi nella coppia milano napoli potete andare a verificare il video sul mio canale youtube di aprile 2015 dove abbiamo vinto ben due termini non parlo di ambate o di ambi che già sarebbero state cioè già vincere l'ambo già qualcosa di incredibile ma due termi secchi vinti in un solo mese su ruota secca è stato un evento veramente incredibile che veramente ha fatto vincere tantissimi tenti che seguono queste previsioni mensili che io pubblico sul mio canale andatemi a trovare in italia chi fa vincere due termini su ruota con una previsione gratuita in un solo mese di gioco qui si fanno i fatti non le parole chi mi conosce da anni lo sa e sa che ci metto veramente il cuore e l'impegno per far vincere i miei tempi anche questo mese speriamo di poter ottenere delle buone vincite certo se arriva un altro termo ben venga noi incrociamo le dita come sempre questa è la tabella per il mese di maggio 2015 dove abbiamo bari venezia ambata secca 26 le posizioni sono sempre la terza la quinta abbinamenti ambo secco 56 42 90 cagliari torino abbiamo il 73 gli abbinamenti per ambo sono 70 21 e 90 firenze roma ambata secca 64 abbinamenti ambo secco 24 76 e 90 genova palermo 59 abbinamenti ambo 68 81 90 e infine bilano napoli ambata secca 54 abbinamenti ambo 86 4 e 90 ovviamente questa tabella va giocata a partire dalla prima estrazione del mese di maggio cioè sabato 2 maggio 2015 fino all'ultima estrazione del mese di maggio compresa quando andremo poi a presentare la nuova tabella di giugno ovviamente il mio consiglio è sempre lo stesso uniamo lambata con i tre abbinamenti per formare una quartina per ambo termo e quaterna abbiamo visto il mese scorso la sortita di ben due termini alla coppia milanonata questo è il mio consiglio ovviamente io per restringere il gioco faccio giocare lambata con i tre abbinamenti formare la quartina ciò non toglie che voi potete formare anche alla fine dei termi secchi ok però il mio consiglio è questo cioè quello di formare la quartina lambata con i tre abbinamenti quindi ricapitoliamo milano napoli 54 genova palermo 59 firenze roma 64 cagliari torino 73 bari venezia 26 un in bocca al lupo grande a tutti vi ricordo che contattandomi in privato avete la possibilità di acquisire il metodo completo per ricavare in totale autonomia questa tabella questo lo dico è molto importante perché adesso a maggio ancora c'è però non so fino a quando io pubblicherò questa tabella sul mio canale youtube quindi vi consiglio caldamente consiglio caldamente a tutti coloro che seguono la tabella di contattarvi in privato l'indirizzo mail nella descrizione per acquisire il metodo completo vi ho dato ampia dimostrazione che qui si vince quindi è un metodo da avere assolutamente quindi fossi voi non sapendo fino a quando questa tabella verrà pubblicata io vi metterò il metodo in tasca perché veramente una perla rara per vincere al gioco del lotto mi raccomando e così sicuro se vi potete contattarmi in privato un invocato a tutti per il mese di maggio un abbraccio a tutti vi ringrazio sempre per l'affetto con il quale mi seguite sul mio canale youtube con il quale seguite anche i miei metodi e seguite anche i miei metodi speriamo di essere sempre vincenti al gioco del lotto un saluto a tutti mister sbanconotto grazie